Quando Shauna portò a casa Ruby per la prima volta, aveva intenzione di addestrarlo come cane da servizio per aiutarla a combattere l'ansia, la depressione e l'agorafobia. Tuttavia, la donna non avrebbe mai immaginato quanto il quattro zampe sarebbe diventato importante per lei. Durante l'addestramento, Shauna ha notato che Ruby ha cominciato a rilevare i cambiamenti nella sua frequenza cardiaca, cercando di attirare la sua attenzione con comportamenti divertenti come dare la zampa, mettersi sopra di lei e così via. Incuriosita da questo comportamento, Shauna ha deciso di consultare un medico e ha scoperto di avere una rara condizione cardiaca chiamata sindrome di Ehlers-Danlos vascolare, di cui non era a conoscenza. Da allora, ogni giorno Ruby aiuta la sua proprietaria a monitorare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, ad aiutarla durante gli attacchi di panico e a recuperare i farmaci di emergenza. La settimana scorsa Ruby ha iniziato ad avvertire la donna che qualcosa non andava, ma Shauna non sapeva cosa fosse. Ha deciso di fidarsi di Ruby e ha chiamato un'ambulanza. Così ho scoperto che il mio cuore stava andando in fibrillazione atriale. Quando sono arrivati i paramedici, ero dolorante e appena cosciente, ha raccontato Shauna. E mentre i paramedici la portavano in ospedale, la donna ha capito che quel giorno Ruby le aveva salvato la vita. Mentre Shauna era in ospedale e i medici lavoravano per farla tornare stabile, Ruby si è rifiutato di allontanarsi da lei. Anche se la donna era incosciente, il cane è sempre stato accanto al suo letto d'ospedale, premendosi contro di lei e sperando che potesse percepire la sua presenza e che questa le desse un senso di sicurezza. Ora il cane è diventato molto popolare ogni volta che Shauna e lui sono in ospedale. Ruby ama salutare tutti, ma si assicura anche di non allontanarsi dalla donna che ama. Non sarei viva senza di lui, ha spiegato la ragazza. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri due video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.